Nella giornata della terra il consorzio di gestione di Tore Guaceto lancia un'iniziativa per tutelare la riserva naturale. Sentiamo di cosa si tratta. Nella giornata della terra il consorzio di Tore Guaceto tende una mano a chi la terra la lavora ogni giorno. Da oggi infatti i proprietari dei terreni agricoli vicini all'area naturalistica della riserva che sceglieranno di non coltivare potranno accedere ad incentivi economici. La misura è stata adottata per ridurre l'impatto antropico sull'area protetta. I dati del monitoraggio svolto e riserva hanno infatti messo in luce che alcune tipologie di conduzione agricola generano un impatto sugli ambienti naturali. L'utilizzo ad esempio di fitofarmaci e l'emungimento di acqua per l'irrigazione da pozze artesiani provocano una contaminazione degli ambienti naturali nel primo caso e un aumento della salinità delle acque superficiali nel secondo. Per questo il consorzio ha inserito nel piano di gestione della riserva azioni per una maggiore tutela dell'ecosistema protetto. Grazie ai ricavi dei servizi estivi 2020 il consorzio ha le risorse economiche necessarie per la messa in campo di interventi specifici. Da oggi infatti gli agricoltori che possiedono terreni vicini all'area naturalistica e che scelgono di mettere a riposo gli appezzamenti per un anno potranno ricevere un incentivo economico. Chi aderirà per 12 mesi potrà svolgere solo l'erpicatura o la trinciatura interventi resi obbligatori dal piano Xilella. I fondi dedicati all'azione sono pari a 25 mila euro. Siamo felici di annunciare questa misura nella giornata della terra la nostra casa da proteggere ha commentato il presidente del consorzio Corrado Tarantino. La auspice è che gli agricoltori siano interessati ad aiutarci a tutelare Torre Guaceto perché migliore lo stato di salute della riserva e più fruttoso sarà anche il loro lavoro.